ciao a tutti ragazzi e bentornati o benvenuti su 10 alfred channel bene due giorni fa ho visto il buco su netflix e penso che in questo momento non ci sia film migliore di cui discutere che questo perché di roba da dire ce n'è tanta prima di vedere questo film mi ero fatto condizionare dal trailer paragonandolo a priori ad una marea di titoli precedenti l'atmosfera di costrizione vissuta dagli abitanti del buco mi riportava per esempio a alla stessa struttura del cubo di vincenzo natali o per esempio all'imprisionamento ed obbligo a svolgere delle prove di so l'enigmista di james one alla stanza in cui da esu il protagonista di old boy di park chan wook rimase chiuso per 15 anni oppure infine al pessimo l'uomo nel labirinto di carrisi mentre invece a mente fredda dopo aver visto il film il film al quale lo paragonerei per i temi trattati è solo uno e vi dirò più avanti quale vorrei partire con un ragionamento e vi chiedo di seguirmi passo per passo faccio questa introduzione perché credo che lo dico subito la più grave pecca di questo film sia la possibilità di cadere in un enorme malinteso e spiegherò passo passo il perché partiamo allora prendiamo la struttura del cva cioè il centro verticale autogestito anche detto la fossa proviamo a mettere insieme tutti gli elementi che riusciamo a percepire di questa struttura da ciò che dicono i suoi abitanti e da ciò che vediamo durante il film numero uno il cv a centro verticale autogestito è sia una struttura penitenziaria cioè un carcere sia un luogo grazie al quale si possono ottenere dei vantaggi per esempio il permesso di transito che goreng vuole ottenere due il cv a è anche chiamato la fossa il che implica qualcosa di sotterraneo o scavato nella terra 3 il cv a è composto da 333 livelli il livello più alto sembra sia quindi lo zero proprio questo fatto cioè per via di questa numerazione che da zero va a crescere però verso il basso ci fa capire che non è affatto una torre che si staglia verso l'alto ma piuttosto un condotto sotterraneo o se preferite una torre sotterranea una torre anche molto alta se guardiamo le immagini di ogni stanza senza contare lo spessore dei mattoni dei buchi tra un livello e l'altro notiamo che l'altezza del soffitto di ogni stanza è almeno 5 metri moltiplicato per 333 livelli sono 1665 metri di altezza in più vanno aggiunti gli spessori dei mattoni di ogni buco arriviamo tranquillamente a più di due chilometri di altezza fantascienza o meno converrete che è molto più logico che questa sia una struttura sotterranea e non stagliata nel cielo chissà forse dal livello zero si stagliano altri piani verso l'alto ma questo comporterebbe nuove possibilità e variabili alla morale della storia che adesso proprio non ho voglia di trattare numero 4 ogni livello del cv a è sorvegliato non si sa come ma lo è l'unica soluzione sono micro telecamere non vi sono finestre nei livelli a parte i buchi sopra e sotto e sembra che la visuale orizzontale degli abitanti del cv a sia limitata al solo livello che abitano mentre quella verticale cioè sopra e sotto è molto più estesa questo difficilmente ci fa pensare se noi fossimo in uno di quei livelli ad altro se non al prossimo livello sarò più in su o più giù questo è uno degli elementi di pressione sugli abitanti del cv a 5 il cibo arriva una volta al giorno per due minuti dall'alto su una piattaforma gravitazionale non ci sono cavi né tiranti né getti d'aria dal basso nella piattaforma a un motore è praticamente un disco volante quadrato accettiamo di buon grado e andiamo avanti numero 6 ogni abitante o recluso può portare un oggetto qualsiasi con sé uno solo anche armi ogni abitante può fare nel buco ciò che vuole ve ne sarebbero altri ma mi fermerò a questi sei che ho appena elencato durante la visione della storia noi apprendiamo tutte queste regole e le accettiamo le accettiamo perché stiamo ascoltando vedendo una storia e diamo per scontato che sia così se per esempio ci chiediamo ma com'è possibile che la piattaforma galleggi nell'aria ci rispondiamo siamo nel futuro sarà una nuova forma di energia a dire il vero io prima di arrivare alla stanza fatidica della bambina il livello 333 mi ero già fatto più di una domanda sui livelli superiori per esempio una delle stanze inquadrate nella discesa finale di goreng e baharat è abitata da due persone e all'angolo della stanza c'è una tavola da surf ovviamente uno degli oggetti che uno degli abitanti si è portato nella stanza ma che senso ha portarsi una tavola da surf nel buco o per esempio due stanze prima del livello della bambina ci sono due uomini in una piscinetta gonfiabile che fanno al bagno due uomini ai quali viene tirato un pezzo di cibo e loro ci si fiondano sopra voglio dire siamo vicini se non oltre il livello 300 ancora non vi siete mangiati vivi l'uno con l'altro o per esempio ancora durante la discesa passano un gran numero di stanze con gente carbonizzata morta sbudellata morta di fame quindi se già goreng faceva la fame quando era stato al livello 202 figuriamoci qui oltre al 300 il livello 332 è abitato da un individuo da solo che si è portato un mazzetto di denaro come oggetto quindi sopra sono tutti morti per la fame lui in fondo è vivo e si butta pure sul denaro per non farselo urbare e per ultimo un gran numero di persone si gettano nel buco durante la storia per sbaglio o per suicidarsi perché sul fondo non c'è un cumulo di cadaveri ma l'ultima stanza è completamente vuota e dopo tutte queste riflessioni mentre guardavo il film prima di vedere il finale mi dicevo ma non torna però vediamo che succede e così avanti e ancora avanti accettiamo più o meno tutto ciò che ci viene propinato fino a che non si arriva al finale goreng e baharat che a livello 333 dopo aver oltrepassato una miriade distanze vuote trovano una bambina una bambina pulita bianco pallido perfettamente in forma senza un caffio che non lascia andare neanche un gridolino di lamentela per fame e qui l'anima di annie wilkes di misery non deve morire si in possesso di noi e ci fa sbottare della fila cominciavano con la fine dell'episodio precedente ecco infatti rocketman che tenta di uscire dall'auto e poi arriva il burrone e prima che la macchina vi finisca dentro lui riesce a saltare e tutti ad applaudire ma io no di certo io mi sono alzata e ho cominciato a urlare non è finita mica così sabato soffrite tutti di amnesia ci hanno fregato è tutto sbagliato a uscire da quel cavolo di macchina lui non ce l'ha fatta ecco in questo punto si rompe tutto tutto ciò che avevamo bovinamente accettato esplode in mille pezzi è questo il grande malinteso di cui parlavo all'inizio tutti siamo stati indotti a credere che questa storia fosse lineare e in qualche modo realistica un bel sci-fi movie ma realistico proprio come nel cubo il buco sembra quasi un anagramma è una visione di una possibile realtà del futuro e qui il pubblico arrivati a questo punto per come la vedo io può scegliere tra due strade da apprendere su come leggere il tutto numero uno incaponirsi che questo sia un film sci-fi lineare e realistico numero due accettare che questo film è una allegoria è una danzaia nata metafora se spulciamo la rete la maggior parte degli utenti sembra seguire la strada numero uno cioè questa è una storia sci-fi realistica e lineare e infatti sono tutti arrabbiati e delusi perché il finale scombina tutta la realtà del racconto le dà un nuovo equilibrio che non ha letteralmente senso ma proviamo per un secondo ad accettare che questo sia un film realistico e lineare avrei un gran numero di domande in proposito per coloro che sebbene scontenti sostengono questa lettura numero uno possibile che di 666 abitanti del buco nessuno abbia in mente di mettersi sulla piattaforma e uscire poi che cavolata allegoria è mai questa di mettere il numero del diavolo il 666 comunque lasciamo andare numero due la piattaforma il peso di quante persone può sopportare numero 3 visto che l'origine di ogni cambiamento è una rivoluzione perché 30 40 50 persone non salgono sulla piattaforma arrivano al piano zero e compiono una rivoluzione cosa dite non lo fanno perché alcuni di loro sono lì volontariamente per dare un senso alla propria vita o questa struttura è una simulazione della società moderna e quindi tutti gli abitanti sono lì per autoeducarsi al cambiamento se fosse davvero così perché sono allora così tutti cinici egoisti nessuno prova a collaborare riducendo il tutto a una semplice lotta per la sopravvivenza se fossero lì se volessero davvero cambiare la società o se stessi si impegnerebbero di più si autospingerebbero ad un cambiamento sono lì per quello e lo sono di loro iniziativa perché lo hanno scelto vedete comunque la si vuol girare non torna c'è poco da fare ecco perché secondo me l'unica lettura che si può dare a questo film è che è un allegoria se accetti questo accetti tutto accetti e comprendi che non è un caso che goreng sia fisicamente e nelle intenzioni un vero e proprio sosa di don kishotte della mancia signor otton è abbiato dalla sua fantasia e dalle sue letture da diventare da intellettuale che era un guerriero imbranato e sempre perdente accetti e comprendi che i primi due oggetti che goreng e trimagasi hanno nel loro livello sono uno la nemisi dell'altro il libro la mente il pensiero la visione di un futuro ed il coltello l'istinto il bisogno fisico imminente il presente e solo il presente accetti e comprendi che la bambina a livello 333 è un allegoria forse alla propria introspezione nella profondità del nostro cuore nella coscienza nostra personale di essere liberi e che se c'è questa libertà nel nostro cuore non esiste una prigione fuori di noi e nemmeno le sue regole per esempio niente caldo o freddo quando goreng e baharat danno la panna cotta alla bambina e via dicendo come dicevo all'inizio la vera pecca di questo film è dare una visione per quattro quinti del film e poi darne un'altra diversa alla fine è questo che confonde e fa arrabbiare tre spettatori su cinque di questo film a mio modo di vedere sembra quasi che il regista o lo sceneggiatore abbiano costruito questo enorme comparto narrativo fatto di metri cubi regole visioni tutto geometrico coerente preciso e che poi gli sia scoppiato in mano non trovando un finale ad effetto e allora cambiamo visuale tra l'altro se accetto la visione che questo sia un film allegorico non sono neanche d'accordo sul messaggio che viene dato il film trasmette attraverso il personaggio di goreng che tutto attorno a questo sistema di persone c'è avidità egoismo lotta per la sopravvivenza a scapito del prossimo trovo questa visione del mondo oltre che un assoluto stereotipo la trovo anche falsa e per nulla realistica e lo stiamo vivendo proprio adesso in questi giorni sulla nostra pelle con la vicenda eccezionale del coronavirus l'umanità in situazioni di estrema pressione e rischio non è cinica non è egoista perché proprio in quella situazione di male comune una situazione proprio come quella nel buco le persone trovano unità ed empatia con le altre la difficoltà che affrontano le unisce le une con le altre e crea un valore è nella vita di tutti i giorni senza pressioni nelle nostre routine che siamo avvolti da quella pellicola trasparente che non ci fa dare valore alle persone che abbiamo attorno non certo in un buco quindi oltre a non trovare questa soluzione narrativa per niente originale forse lo sarebbe stata 40 anni fa negli anni 80 non la trovo neanche veritiera è una semplice scappatoia e stereotipo narrativo è il miele di bassissima qualità che il narratore spalma sul suo foglio per attirare la nostra attenzione di buono resta solo questa enorme impalcatura architettonica della fossa con le sue regole ed i suoi significati nascosti che sicuramente poteva essere usata molto meglio ed è l'unica cosa attrattiva di questo film a parer mio avevo citato un film all'inizio che mi ha ricordato subito i temi di questo il buco un film che li tratta in maniera infinitamente più profonda e realistica e questo film è the square di ruben ostlund vincitore se state dietro ai premi della palma d'oro di canna del 2017 vi invito a vederlo se non l'avete ancora visto non ho proprio voglia di mettermi a parlare della fotografia delle interpretazioni o della colonna sonora di questo film questo film è unicamente il concept che esprime ed è un concept sbagliato e fatto male per me bene ragazzi fatemi sapere che ne pensate nei commenti se vi è piaciuto ciò che avete ascoltato sentitevi liberi di fare per questo canale tutto ciò che ogni youtuber vi intima di fare cioè lasciare un like iscrivervi al canale cliccare sulla campanella e se avete anche 50 euro da prestarmi non sarebbe male alla prossima da 10 alfred channel grazie a tutti